La Notte di Senza di Mora In tutto il pianeta si stanno stringendo nodi, si sta facendo il gesto di alzarsi in piedi per lanciare un messaggio chiaro, forte ai leader del mondo. Ci siamo stufati delle promesse, abbiamo bisogno di azioni, abbiamo bisogno che la lotta alla povertà diventi una priorità delle agende politiche, così come la lotta ai cambiamenti climatici. Ora, da qui, da Roma, si une a tutta Europa con questa lucha contra la pobreza e per gli obiettivi del milenio. Tenemos los instrumentos para acabar con la pobreza en el mundo, solamente falta que los gobiernos pongan de su parte. Y aquí estamos nosotros para recordárselo, para que no se olviden que nosotros queremos acabar con la pobreza. Il gesto del nodo rappresenta l'unione che è necessaria per vincere e sconfiggere la povertà e il degrado ambientale. Nord e sud del mondo insieme, cittadini e governi insieme, associazioni e governi, associazioni e singoli. Stringiamo questo nodo oggi e tutti i giorni dell'anno, stringiamolo con la massima energia possibile per combattere la povertà e i cambiamenti climatici. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie